Gireline al pistacchio Prendere una pasta sfoglia Versare uno strato di crema al pistacchio Questa è dell'azienda Shara Spalmare tutta la crema di pistacchio e la pasta sfoglia Arrotolare la pasta sfoglia Mettela in freezer per 20 minuti Poi tagliare i rotolini Sistemarli in una teglia ricoperta di carta forno Cuocere 180 gradi per circa 20 minuti Regolatevi in base al vostro forno Un po' di zucchero a velo Un po' di granella di pistacchio Dolcetti velocissimi e molto buoni